Ha registrato parecchie migliaia di contatti l'incontro del Cardinale Arcivescovo con i Cresimandi della Diocesi e i loro genitori, incontro che ha avuto luogo a distanza attraverso il nostro canale YouTube. Erano migliaia in generi partecipanti a questo appuntamento che consentiva al Vescovo di raccogliere in un unico abbraccio tutti i ragazzi che nel corso dell'anno ricevono il sacramento della confermazione. Le voci dei ragazzi si sono sentite attraverso alcuni messaggi che sono stati trasmessi, in particolare dai Cresimandi di Castiglione dei Pepoli, forse la parrocchia più lontana dal centro diocesano. I ragazzi hanno condiviso le loro speranze e le loro attese per la Cresima e anche per questo contesto così difficile della pandemia che anche nel territorio montuoso della Diocesi ha colpito con forza. Insieme a quella dei ragazzi è stata proposta la testimonianza di una catechista e di una famiglia. Questa pandemia ci ha allontanato, non possiamo vederci stare insieme, qualche volta ci rende triste, a volte arrabbiati e un po' rabbiosi, tipo sta dalla larga che mordo e qualche volta siamo un po' rabbiosi. Ma Dio ci dà tanto amore, ci insegna ad amarci tra di noi proprio per farci capire che siamo tutti sulla stessa barca, che c'è un legame che ci unisce e che se ci vogliamo bene, questa tempesta che passerà, ma dobbiamo stare molto attenti, molto attenti, ma passerà, questa tempesta ci renderà più forti, più consapevoli, più responsabili, più uniti, meno sciocchi. Perché abbiamo capito la vita vera, che non possiamo perdere tempo nelle cose inutili. Simone diceva abbiamo capito l'essenziale, c'ha ragione, appena finirà ci andremo a trovare con gioia e capiremo delle cose. Che cosa abbiamo capito in questi mesi? Abbiamo capito, per esempio, che non è una parentesi da cancellare, abbiamo capito che non dobbiamo lasciare solo nessuno, che dobbiamo vincere tutto l'isolamento, che non possiamo farcela da soli e dobbiamo aiutare chi è in difficoltà. L'incontro è stato organizzato da Ufficio Catechistico Pastorale Giovanile in collaborazione con 12 Porte e la Segreteria Generale della Diocesi.